Adesso andiamo a prendere questa zucca da trasformare, è la lanterna di Jack O'Lantern, vieni andiamo a sceglierla, vieni a vedere dove stanno, c'è anche Rocco, c'è un elefantino giallo, ciao, dove stanno le zucche, va qua ce ne stanno un sacco, hai visto quante zucche che abbiamo qua, ce ne sono tante, quale prendiamo? Questa è grande ma non è adatta, ne prendiamo un'altra, eccola, prendiamo questa, abbiamo deciso che ne facciamo una piccola e così la mettiamo nella stanza di Antonio e Sofì, dimmelo, allora come si chiama questa? Zucca, come si chiama? Come si chiama? Zucca Zucca Adesso prepariamo questa lanterna Zucca 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 Ovviamente l'abbiamo fatta così, sorridente, perché va in camera dei bimbi piccolina, giusta giusta per loro E con il residuo della zucca, dopo ci facciamo un bel risotto Da vedi spoletto sono Zucca 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 Grazie a tutti.